Bella è la strada a Cosenza. Occhio Katia, sembra di essere a Beirut qui. Sì, non sono strade, sono mulacchiere a Cosenza, vedi? Tutto un dosso, una buca, vedi? Incredibile. Non siamo come a Milano, fai la gincanna tra le fosse per trovare il pezzettino di strada buona. A Milano può capitare, ma poi le mettono a posto. Sì, sì, come no? Noi le hanno sempre messe a posto, no? Sì, sì, vedi? Ma anche in un periodo di campagna elettorale si sono degnati, solitamente in campagna elettorale le fanno queste operazioni che poi secondo loro portano voti, ma neanche in questo periodo le hanno fatti. Tu pensa che invece due giorni fa ho visto che hanno fatto l'ultima delibera di giunta, hanno deliberato 650 mila Euro per Battiato al Rendano, una tre giorni che la gente dovrà anche pagare il biglietto per andarlo a vedere. E quindi ce l'avete il soldo? Appunto, no? Poi però quando chiedevano, le strade sono in queste condizioni, perché non rifacciamo il manto stradale? Per lo meno in qualche strada che è un poco più disastrata, visto che sono tutte ad un livello pessimo, ma ce n'è qualcuna che è anche peggio, tipo se vai sulla strada di Donnici, no? E' tutto un cratere, davvero fai prima ad andare col cavallucci. Eppure loro poi invece stanziano 650 mila Euro per fare una tre giorni con Battiato. Così funziona Antonio Caro. Grazie.